Ciao, sono Sara Pogliese, socialist ed esperta di cucito e ti do ufficialmente il benvenuto in questo nuovo fantastico corso dedicato alla confezione del cappotto. Scopriremo assieme tante tecniche utili che ti permetteranno di confezionare il tuo cappotto perfetto. Questo corso ti insegnerà le basi, i ragionamenti per confezionare qualunque tipologia di cappotto avente alcune condizioni comuni. 1. Avrai bisogno di desiderare un cappotto foderato. 2. Avrai voglia di confezionare un cappotto con il collo. 3. Avrai voglia di confezionare il cappotto con le tasche. Impareremo infatti come si cuciono le tasche con all'interno la fodera. Questo corso è perfetto per te se stai cercando la possibilità di confezionare un collo in tanti modi diversi e anche di andare a creare un cappotto dai tagli verticali. Questo cappotto infatti è un cappotto dal taglio verticale con pants, manica doppia, che ti permette, manica doppia intendo manica tagliata in doppio, che ti permette di andare a personalizzare la costruzione e la confezione del cappotto. Come vedi qui c'è una piegolina perché ho inserito la manica nel cappotto. Questo corso è perfetto per te se stai cercando un corso che ti insegna a confezionare un cappotto che ha un carrespalla, due tagli verticali dietro, puoi anche tagliare il cappotto nella parte centrale e puoi anche andare a personalizzare il collo lasciandolo bello alto. Questo corso poi è perfetto per te se vuoi imparare a lavorare anche con un cartamodello di base di riferimento. Scopriremo infatti tutti i consigli per la scelta corretta del tessuto, impareremo quali sono gli accorgimenti nel cartamodello, studieremo bene assieme un cartamodello in particolare, il cartamodello Butterick B6385, impareremo quali sono le tacche da disegnare, quali parti del cartamodello interpretare, come modificare la propria taglia e poi scopriremo anche la tabella dei simboli per interpretare correttamente tacche a piombi, dritto filo e scopriremo quali sono i punti dove si allunga e si accorcia un cartamodello. Scopriremo poi i margini di cucitura da dare quando si vuole foderare un cappotto perché ricordi quel bel trucco? L'orlo del cappotto e della manica sono un po' diversi se hai la fodera perché vuoi avere un bel cappotto che vesta bene ma non è finita qui. All'interno di questo corso scoprirai anche una guida alle taglie per i cartamodelli americani e dunque potrai finalmente interpretare qual è la tua corretta taglia tra il rapporto taglia americana e taglia italiana. Impareremo a realizzare tanti varianti diverse di cappotto, qui comprendi bene che questo corso è perfetto per te se vuoi realizzare un cappotto con i tagli verticali, con i bottoni, con le tasche, con la manica tagliata in due pezzi e con un collo in questa variante o ancora nella variante B il collo a punta, le ribattiture sulle cuciture principali, le ribattiture anche sulla tasca o ancora nella variante A il collo rotondo alla Peter Pan, la tasca diritta oppure magari a punta come nella variante C senza ribattitura. Che tu scelga la variante A, che tu scelga la variante B, che tu scelga la variante C con anche le punte nelle tasche, questo corso è davvero perfetto per imparare a confezionare questo e qualsiasi altro cappotto similare. Vedremo assieme la lista dei materiali e anche i corsi correlati perché non ci sono assolutamente corsi obbligatori da seguire, ma se ti farà piacere dopo aver frequentato questo corso del cappotto approfondire argomenti similari puoi trovare per esempio il corso delle fliseline che ti insegna a fliselinare qualunque materiale e poi il corso tasche 1 e tasche 2 che ti permette di realizzare tante tasche diverse per esempio per i tuoi cappotti dalla tasca filetto alla tasca con fattina con le tasche per cerniera o le tasche magari interne da mettere nella fodera. E se poi vuoi completare il tuo cappotto ti consiglio confezione abito tubino 3 con cui potrai andare a confezionare anche qui un pattern americano e andare a combinare questo cappotto con il tuo abito. Il corso confezione cappotto volume 1 è disponibile in Sarapoese Academy per sempre. Acquista ora guarda per sempre da qualsiasi dispositivo smartphone, tablet, computer e persino tv. All'interno del corso poi trovi una community pronta a condividere insieme a te testi, foto, sondaggi, approfondimenti legati a questo argomento. Il corso una volta acquistato ti permetterà di avere il programma del corso scaricabile e al suo completamento riceverai un certificato ufficiale di completamento del corso che potrai stampare e appendere nella tua craft room ma anche archiviare digitalmente nel tuo dispositivo. Insomma cosa aspetti? Inizia ora la tua avventura di apprendimento in Sarapoese Academy. Introduzione e programma. Ciao iniziamo questo corso dedicato alla confezione cappotto volume 1. Ti dico che è cappotto volume 1 perché in Sarapoese Academy ci sono o ci saranno a seconda di quando guardi questo contenuto ulteriori corsi dedicati alla confezione del cappotto. Questo cappotto vuole essere un riferimento universale per tutti i cappotti di tipologia taglio princess. Mi spiego meglio. Il cartamodello che prenderemo a riferimento per poter cucire con un esempio è il cartamodello Butterick B6385. Tu però puoi usare qualunque altro cartamodello tu abbia a disposizione preso da qualunque altra rivista Burda, Modellina, La Mia Boutique o dai pattern americani McColls, Butterick, Simplicity, Vogue, New Look. Puoi dunque prendere ispirazione grazie a questo corso per la confezione del cappotto classico taglio princess che è quel cappotto caratterizzato con i tagli verticali. Un cappotto dalla manica a giro classica, un cappotto con la manica tagliata in due pezzi per cui hai la parte superiore della manica e la parte inferiore della manica, un cappotto con un collo, un cappotto con la fodera, un cappotto con le tasche. Dunque se stai cercando un approfondimento di confezione per imparare a cucire a regola d'arte un cappotto con queste caratteristiche questo è il corso perfetto che fa per te. Utilizzo di base un cartamodello a riferimento in modo tale che tu possa anche seguirmi passo dopo passo con un cartamodello di base di appoggio ma ripeto puoi utilizzare questo corso per qualunque altra tipologia di cappotto che voglia confezionare. La caratteristica del cappotto è cappotto con manica a giro, cappotto con fodera, cappotto con tasche, cappotto con collo, cappotto con come cuccio la fodera, hai cappotto? Per cui vediamo assieme il programma che caratterizzerà questo corso. Ci sarà l'introduzione e il programma, il contenuto video che stai vedendo in questo momento. All'interno di Sarapoesa Academy puoi poi scaricare il programma del corso in PDF per poterlo stampare e archiviare nel tuo libro degli appunti. Vedremo anche i corsi correlati che non sono assolutamente vincolanti ma sono dei corsi che ti consiglio come per esempio il corso che ho tenuto in Academy dedicato alle fliseline per imparare a fliselinare con più padronanza anche il cappotto. Vedremo i materiali occorrenti per realizzare questo progetto. Ci concentreremo sul cartamodello Batteric B6385. Vedremo le tre varianti di cappotto perché puoi fare tre cappotti diversi. Scopriremo la guida le taglie dove impareremo a scegliere la nostra giusta taglia americana e comprenderemo quali sono i margini di cucitura perché nel cappotto, se vuoi fare il cappotto con la fodera, il cappotto esterno ha un margine di cucitura, la fodera interna ne ha un'altra per fare quel bel giochino di fodera, quella che la foderina non esce mai dal cappotto ma sembra bella ripiegata all'interno della fodera stessa. Vedremo poi la tabella dei simboli e come effettuare il piattamento del cartamodello su stoffa per ogni taglia perché infatti vedremo anche in base ai tessuti alti o bassi che ci possono essere in commercio come effettuare il piattamento del cartamodello su stoffa. Sceglieremo il tessuto adatto a questo progetto e poi ci occuperemo in un'intera unità di apprendimento della confezione. Partiremo da come si fliselina il cappotto, quali fliseline scegliere, come applicarli, quali sono i trucchi segreti per l'applicazione perfetta delle fliseline. Un'unità di apprendimento poi sarà dedicata al cartamodello del cappotto davanti alla sua confezione e all'applicazione della tasca con fodera e con pattina applicata. wow. Impareremo a cucire poi il cappotto dietro, il carré spalla dietro, applicheremo il collo, collo doppiato, fliselinato, bello, magnifico e applicheremo poi la manica e uniremo la manica al cappotto. Come si imbastisce una manica su un cappotto? Come si fa il molleggio di una manica su un cappotto? Applicheremo poi la fodera. Come si cuce la fodera del cappotto? Quali parti vanno cucite in fodera e quali invece si cuciono con lo stesso tessuto di lana magari del cappotto che hai scelto? Ci occuperemo poi dell'unione della fodera al cappotto e ti svelerò un trucco super geniale per andare a foderare il tuo cappotto. Vedremo poi delle rifiniture finali. All'interno di questa unità di apprendimento ti darò tantissimi consigli e varianti per personalizzare il tuo cappotto. Dunque quando avrai realizzato il tuo primo cappotto potrai creare tante varianti diverse di cappotto sempre con lo stesso stampo di base creando delle rifiniture diverse. Vedremo poi le conclusioni e arriveremo a completare il nostro corso dedicato alla confezione del cappotto volume 1. Siamo pronti per iniziare a cucire il nostro cappotto a sua misura? Tre varianti di cappotto. All'interno di questo corso se scegli di utilizzare il cartamodello batteric puoi scegliere tra tre varianti di cappotto. All'interno di queste tre varianti puoi scegliere sempre lo stesso cartamodello di base e andare a personalizzarne le rifiniture. In una precedente unità di apprendimento all'interno di questo corso hai trovato un ebook che ti dà diversi link per acquistare il cartamodello online e fartelo arrivare direttamente a casa tua. Lo puoi acquistare dal mio Amazon shop e ti ho messo il link. Lo puoi acquistare anche dal sito ufficiale di Sew Direct il distributore per l'Europa dei cartamodelli americani e puoi dunque iniziare a confezionare il tuo cappotto. Ti ricordo che comunque puoi scegliere qualsiasi altro cappotto di linea similare. Vediamo assieme le tre varianti di cappotto che abbiamo a disposizione. Il punto di riferimento di base è che questo è un cappotto taglio princess con carré spalla dietro e maniche in due pezzi. Questo cappotto contiene due varianti di tasche. Questo cappotto contiene il collo Peter Pan. Questo cappotto può essere cucito con il collo a punta. Questo cappotto può essere confezionato con il collo a facetta. Il cartamodello di questo cappotto è personalizzabile in base alla coppa seno. Puoi avere una coppa A, B, C o D. La variante A del cappotto presenta questi tagli verticali meravigliosi e questo colletto rotondo chiamato collo Peter Pan. ed eccolo qui. Come ti avevo detto era un cappotto dal taglio verticale con il carré spalla dietro, la maniche in due pezzi, la tasca applicata. Vediamo la variante B. La variante B è lo stesso cappotto con però la preziosa rifinitura di tutte le impunture nelle cuciture orizzontali e verticali. presenta il collo a punta e la tasca diritta. La variante C presenta il collo a fascia, le impunture e una tasca con la punta. Tu puoi anche scegliere, come infatti ho fatto io, di andare a prendere il collo a punta tipico della variante B. Ma per quanto riguarda la tasca, io ho fatto la tasca a punta tipica della variante C. Capisci che ho mescolato i vari pattern insieme per creare un nuovo ulteriore pattern? In questo modo ottieni tre perfette varianti di cappotto.